Qui al Festival di Fotogiornalismo di Padova porto il mio ultimo lavoro, Homo Change, questa documentazione che mi ha visto impegnato per circa sei anni tra Etiopia e Kenya, lavoro che documenta il cambiamento ambientale e sociale a seguito di quella che è stata la costruzione dell'attuale più alta diga di tutta l'Africa, la Ghibbe III, una diga costruita sul fiume Homo, nasce in Etiopia, diventa lago turcana in Kenya dove termina il suo corso naturale. Questo fiume, appunto il fiume Homo, ha il nome alla medesima valle che è l'Homo Valle, la valle dell'Homo appunto nel sud dell'Etiopia, che è caratterizzata dalla presenza di queste circa 500 mila persone suddivise in etnie diverse e che negli anni hanno vissuto grazie proprio la presenza di questo fiume. Ovviamente la costruzione di questa diga è andata a modificare sostanzialmente sia l'impatto ambientale che l'impatto sociale su queste persone. Quindi questo lavoro è una riflessione di fatto, è una riflessione su come un muro di cemento può condizionare la vita e l'ambiente, ponendoci poi una domanda se ad oggi effettivamente è ancora giusto chiamarlo sviluppo, la costruzione di queste grandi imprese, se effettivamente abbiamo ancora bisogno di questi investimenti miliardari per lo più di paesi esteri. Quello che io ricerco costantemente all'interno dei miei lavori è la presenza umana, la relazione umana. La relazione umana per me è quasi un'ossessione all'interno dei miei lavori perché io voglio immergermi nella vita delle altre persone, nelle storie delle altre persone, sia nel caso in cui i lavori sono degli observate portrait o se sono dei lavori più di documentazione come change e che comunque prevede un'importante relazione umana con le culture e le persone che si va a fotografare. Quindi per me il focus dei miei lavori è veramente la relazione umana che diventa anche quello che mi smuove a cercare delle storie e a portarle avanti. Il confronto in maniera particolare con quelle realtà che in qualche modo sono un po' lontane dal mio quotidiano e che quindi alla fine mi incuriosiscono ma che poi mi rendo conto che in realtà mi arricchiscono e diventano parte della mia vita. Io oggi sono il risultato non solo delle esperienze della mia vita ma sono anche il risultato di parte di esperienze avute lavorativamente parlando, cioè come alcuni lavori che io ho realizzato hanno comunque, mi hanno comunque trasformato, il mio punto di vista, il mio modo di ragionare, il mio modo di percepire quindi non voglio smettere di farlo e quindi questo è veramente quello che vado ricercando nei miei lavori insomma. Amo tantissimo vedere lavori di grandi fotografi, di architettura, di paesaggio, è una fotografia che mi affascina molto. Ogni volta che provo a pensare a un lavoro così mi rendo conto che poi cerco sempre l'interazione umana, cerco sempre anche proprio la presenza umana all'interno delle mie foto. Le mie foto che poi tecnicamente sono un po' caratterizzate da questo utilizzo quasi costante del 28 mm, quindi questa lente grandangolare che in realtà mi permette di essere dentro la scena e quindi non da osservatore ma proprio come come persona che sta vivendo una storia. I miei progetti nascono tutti in una maniera un po' diversa l'uno dall'altro non c'è una... anzi sì forse c'è una caratteristica che li unisce, è la curiosità, la curiosità di capire, la curiosità di cercare di andare oltre all'apparenza e questo ovviamente prevede una fase di studio importante e un coinvolgimento importante, cioè devi diventare un po' il tuo tarlo, la tua idea fissa, sempre presente e costante, quando ti svegli deve diventare il tuo sogno quando vai a dormire. Nello specifico Homo Change possiamo dire che nasce semplicemente nel... ero in Etiopia del Nord per la realizzazione di un altro lavoro, in un momento di pausa a quasi fine giornata, ascoltavo le conversazioni di due etiopi all'interno di questo localino a modi bar insomma che sono molto... il concetto di bar è molto lontano da quello che possiamo immaginare noi e parlavano questo ovviamente grazie alla traduzione poi del mio fixer, parlavano di questo grandissimo progetto che l'Etiopia da lì a poco avrebbe affrontato, cioè il più grande progetto che il governo etiope avesse mai affrontato. Questa cosa mi è un po' rimasta dentro, nel senso un po' incuriosito, una volta che sono tornato a Roma ho cominciato a studiare e lì mi si è aperto un mondo. Poi ovviamente più vai avanti e più il lavoro ti si tato addosso, no? E fa parte un po' della tua... appunto del tuo quotidiano, come dicevo prima. E cominci anno dopo anno, dopo che lo hai iniziato, lo continui a portare avanti, anno dopo anno lievita, no? È come un po' una pasta madre, no? Che la devi curare, la devi... quella cresce, cresce, cresce e diventa anche ingombrante in qualche modo, ma... perché ti fa scoprire delle cose che inizialmente tu non immaginavi. Ad esempio in Homo Change mi rendo conto che ad oggi il posto di Homo Change è stato un lavoro un po' folle, no? Un lavoro un po' folle perché è un lavoro che non sai effettivamente dove ti porta, dove ti potrà portare e quali potrebbero essere le conseguenze, no? O magari investire tanti anni e poi rendersi conto che effettivamente il lavoro era un fallimento o rendersi conto che ad esempio Homo Change è un lavoro che si concentra tutto sulla presenza di una foto, cioè la presenza della foto della diga, perché senza quella foto ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma quella foto documenta il motivo per cui c'è quel progetto e nasce mentre termina il mio altro progetto importante che è Mirella, con un lavoro totalmente diverso ad esempio da Homo Change, quindi era anche questa voglia di sperimentare anche qualcosa di apparentemente diverso, no? Perché una a bianco e nero, una a colori, una di documentazione, l'altra è molto più intimo e coinvolgente emotivamente, ma di fatto ad esempio la vicinanza in quello che io poi sono andato a fotografare in un progetto o nell'altro, insomma, è un po' la caratteristica dei miei lavori. Il coinvolgimento emotivo quando si vanno a fare determinati lavori e quindi non puoi ignorarlo. Il coinvolgimento emotivo è qualche cosa che deve far parte anche del processo creativo e va gestito. Spesso ci si ritrova ad affrontare delle situazioni che emotivamente sono molto forti e molto condizionanti, sia in positivo che in negativo. Molto spesso si dice che chi fa il fotografo comunque ha questo schermo, ha questo filtro che è quello della macchina fotografica, no? Questa macchina che filtra la realtà. Io in realtà credo che sia un amplificatore invece la macchina fotografica, perché nel momento che tu tiri sulla macchina fotografica e decidi di inquadrare una scena, stai praticamente isolando tutto quello che è il contesto, su una determinata area e devi essere concentrato su quell'area e se in quell'area c'è qualcosa che sta accadendo di particolarmente forte o emotivo, tu non puoi far non finta di vederlo. Anzi, lo devi andare a vedere, in qualche modo lo devi andare anche a comporre e quello è proprio concentrare l'attenzione e lo sguardo su quello che hai deciso di fotografare. Questo, almeno per quanto mi riguarda, amplifica ancora di più la fase emozionale, no? E va gestita. Quindi devi trovare anche un modo, non contestuale ovviamente, ma successivo, che ti aiuti a decomprimerti, imprimere quello che tu hai vissuto e ti entra dentro, ti si appiccica addosso, quindi ci deve essere anche un'importante fase di realizzare quello che effettivamente hai vissuto e quello che effettivamente sei andato a fotografare. Inevitabilmente ti rendi conto che comunque fa parte della tua vita. Fotografare, essere un fotogiornalista oggi, significa immergersi, immergersi all'interno delle storie che decidi di andare a raccontare, perché l'immersione è veramente ciò che fa la differenza tra un lavoro fotografico importante ed un lavoro che deve essere fatto perché, ad esempio, non so, commissionato e quindi con le tempistiche veloci e appunto relative.